Quale direttore dell'ospedale di Charenton vi do il benvenuto in questo mio salone? Al qui è ricoverato signor De Sazio Mocrati, che per maggiore edificazione dei malati, chi un dramma ha immaginato un inscenato, e qui tra non molto lo vedrete presentato. I nostri attori, mostrati di clementi, sono in quest'arte ai primi esperimenti. Cioè lo spettacolo non sarà di prima qualità, compadite almeno la buona volontà. Moderni, illuminati, sorretti dalla scienza, dal nostro nuovo metodo bandita, è ogni violenza. Le arti belle, si insegnano ai malati, così anche qui dentro vedrete rispettati quei grandi creti che tutti seguiamo, in cui gli umani diritti proclamiamo. Con mia licenza questo bagno fu adattato a teatro del dramma dall'autore immaginato. Gli strumenti di igiene non ci saranno in pace, anzi al contrario. Daranno al carovaccio del signor De Sazio uno sfondo adeguato, perché di Marà l'assassinio sarà rappresentato, come oggi sanno anche i bambini a scuola. Sedeva quella notte Marà nella bagnerola, mentre chiina su lui la cordello spiava e a dargli un ferran colpo s'aprestava. Guardate, ecco lo bagno nella sua tinozza, l'uomo per cui ha tanti, pula testa monta. Jean Paul Marat, nei suoi cinquant'anni, da pelle gialla, seminuto, coperto da due panni. Voi lo vedete infiammato da un eczema, giacerne l'acqua gli allevia la gran pena. Quest'uomo, tanto immerso nelle carte, è stato da noi scelto per la parte, tra quei pazienti che hanno tratto giovamento, dall'idroterapia, il nostro trattamento. Simone Brar, la donna che lo cura, con lui divisa la sua vita dura, non spoda sull'altare, ma con un giuramento che uniliberi entrambi sotto il firmamento. Ed eccomi infine l'astro della storia, che di uccider Marà, volle la gloria. Carlotta Cordè, accan nata, è educata come convienzia una vergine ben nata, veste con eleganza, calza scarte alla moda, vedetela, laggiù come lo scialle s'annoda. Vuole la cronaca che una benigna stella la generasse molto, molto bella. Ma dassi il caso che in questa istituzione soffra di sonnolenza e grave depressione. L'attrice da noi scelta perciò, fervidamente, speriamo che le battute apprese, tenga a mente.